Cemento a capocolonna? No, tutto ciò che è stato fatto rientra nel contesto di interventi volti a tutelare e valorizzare il sito e il patrimonio archeologico che custodisce. Parola del sindaco di Crotone Peppino Vallone, che affronta di petto le polemiche scatenatesi sugli interventi adottati su uno dei più importanti tesori calabresi. Si è arrivati alla soluzione di conservare e proteggere i reperti stessi con le tecniche che avvengono in tutte le archeologiche del mondo, che sono appunto manti di sabbia, dei teli particolari, una rete elettrosaldata, una parte di cemento che non è finalizzata a cementificare, ma è finalizzata a proteggere i reperti e attraverso queste tecniche, i reperti non sono utilizzate solo a Crotone o a Capocolonna, ma sono utilizzate in tutto il mondo, si è provveduto alla conservazione di quei reperti.